Peter, a ultimo vedi la classificazione generale, una grande soddisfazione e anche una grande esperienza per te. Sì, è stata una buona esperienza venire qui, per vedere come sembra di essere il leader con Team SIGAR. Normalmente andavo a riferirsi in un ruolo domestico, aiutando con Chris Froome, Bradley Wiggins o Richard Porto. È stata una buona esperienza venire qui. E' stato un po' difficile da finire la rata di questo time trial, ma ero confidente che potevo continuare, specialmente con la ruta Hilly. La tua squadra ha vinto 4 stagioni su 5. Buon risultato. Sì, è stato incredibile. Sì, credo che è tutto per il primo giorno, quando abbiamo spostato la rata sulla prima stagione. Abbiamo avuto molto buona morale e molta confidenza per aiutare al team time trial. e poi abbiamo usato il momento, e tutti erano felici di essere qui. Abbiamo avuto una buona motivazione e una buona confidenza per il team. Abbiamo avuto un po' di ogni giorno, e questo ha mostrato il risultato.